Siamo al Don Orione, casa della Boreale, campo in cui si è giocata a Roma-Napoli della YouTuber League ma soprattutto campo in cui tra qualche ora si disputerà la finale d'andata tra Juventus e Milan. Prima però dobbiamo portarci avanti col lavoro perché lo sapete i gironi alla fine della fase d'andata verranno risorteggiati e quindi cambieranno totalmente. Siamo qui per questo, per disegnare la seconda parte di stagione. Andiamo a sorteggiare i gironi. Ed eccoci qui, signori, al tavolo dei sorteggi. Come sempre ci siamo dati un tono, alle mie spalle, il banner della YouTuber League classico, lo conoscete, un roll-up, insomma una certa eleganza, modestamente, anche senza dolce vita perché siamo a fine febbraio, voi vedrete i sorteggi a inizio marzo, però è già primavera a Roma e questo è un tema non indifferente, vedete le luci cambiano, ma non è questo il tema, il tema fondamentale è che dovete ricordarvi di iscrivervi al canale per supportare appunto questo canale e soprattutto la YouTuber League perché voi guardate i video e siete in tantissimi, però poi non tutti si iscrivono, quindi mi raccomando attivate anche la campanellina per non perdervi, per esempio, la partita tra Juventus e Milan, quindi la finale d'andata di questa YouTuber League. Poi ricordatevi di seguirci su tutti i social a livello personale, Fede Marconi, a livello di YouTuber League su Instagram, ma anche su Twitch, con The Corner, dopo le partite, anche prima, viviamo un po' dietro le quinte di tutte le situazioni che ci piace analizzare. Prima di partire, ovviamente, c'è da fare un piccolo passo indietro perché abbiamo vissuto una fase importante, quella d'andata, ogni squadra ha giocato due partite e la cosa impressionante, anche rispetto allo scorso anno, è stato l'equilibrio totale tra i due gironi. Ogni squadra ha totalizzato tre punti, quindi ha vinto una partita, ne ha persa un'altra e i gironi sono finiti in modo praticamente analogo, entrambi, la differenza reti è diventata fondamentale, abbiamo dovuto ricorrere alla classifica avulsa per capire quale sarebbe stata la finale d'andata e quindi alla fine Juventus-Milan, che sarà, ripeto, qui a Laboreale il 2 marzo e vi aspettiamo numerosi. Ma complimenti anche alle altre quattro squadre che non si sono qualificate, almeno per la finale d'andata, ma hanno totalizzato quel numero di punti e quindi hanno dimostrato di essere comunque in gioco in vista della finalissima, perché vi ricordo qual è la struttura, è fondamentale, così avete tutto presente. Abbiamo vissuto la prima parte di stagione e quindi Juventus e Milan si giocano un posto in finalissima nella finale d'andata. Ora risorteggeremo i gironi, funzionerà esattamente come nella fase d'andata, ogni squadra giocherà due partite e le prime classificate del gruppo A e del gruppo B si affronteranno nella finale di ritorno. Le due vincenti di queste finali intermedie giocheranno la finalissima. Che succede se la stessa squadra, lo scorso anno fu la Juventus, dovesse vincere finale d'andata e finale di ritorno? La finalissima non si gioca, la Juventus dello scorso anno quest'anno diventerebbe aritmeticamente campione, anche per meritocrazia. Lo scorso anno la Lazio poi vinse, giustamente perché era quello il regolamento, ma quest'anno lo abbiamo modificato e ve lo ricordo, così abbiamo tutto chiaro. Detto questo, signori, stiamo parlando tantissimo, manca sempre meno all'inizio dei sorteggi per capire qui, in questa pallina, che squadra c'è, ma prima di partire direi di fare un salto all'indietro, ancora uno, molto importante, perché voglio mostrarvi i gol più belli di ogni squadra della YouTuber League nel girone d'andata. bloccare e giocare velocemente per Rapolla, che ha un po' di spazio, Rapolla, guarda le porte! Rapolla! Si accentra, pensa anche al tiro, il posto di lui. Crispo! Crispo! A Gelario Roma! Occhio a Carpani che ha preso il tempo e vuole anche ripartire, riparte Carpani che si è smaterializzato, ancora Carpani che ha preso il fondo, Carpani! E poi di Philadelphia! Un pochino, perché quando Fratino può calciare in qualche modo è sempre interessante, mentre in parte opposta c'è Pata che resiste, doppio dreaming, triplo e poi lo fa così! Lo fa così! Angolo Juve, primo ballo Campolunghi, si gira, no, 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 io non ho fatto neanche esultare per un gol così! Un altro argentino! Fratino! Occhio che anche zona tiro va dentro a cercare Gilbert, si addormenta Nico! Fratino! Fratino! Non esulta! Ma fa 3-0! Ha spaccato la porta! Andrea! Fratino! Bentornato! E quindi torniamo al presente, ci siamo! Siamo pronti per sorteggiare, per vedere qui dentro quali squadre usciranno e che gironi si comporranno, che è giusto in italiano, giusto? Eh, allora ho ragione! Fase di ritorno che giocheremo con questo pallone ufficiale della Serie A, per il quale bisogna ringraziare De Pitch, che è partner della YouTuber League, ci ha fornito questo e molto altro materiale per divertirci all'interno della nostra YouTuber League, quindi questo sarà il pallone ufficiale invernale della Serie A per variare rispetto a quello bianco che abbiamo utilizzato nella fase d'andata. Io ho fetish per queste cose, raga! È così, mi piace! Quindi fatevelo andare bene anche voi! Detto questo, è il momento signori, io ho sempre molta tensione perché poi, lo sapete, sono inevitabilmente coinvolto emotivamente. Vediamo quale sarà la prima squadra ad uscire per... la vedo già, è la Lazio. È la Lazio, campione in carica, della YouTuber League. Lazio che ha vinto nel 22-23, quindi la prima edizione della YouTuber League, in finalissima contro la Juventus per 4-3. Lazio che quest'anno si è rinforzata con giocatori importanti come Jay Pata, per esempio, che ha esordito contro la sua Inter, perché lo sapete, tifoso dell'Inter, si è prestato alla causa bianco-celeste, abbiamo spiegato i motivi e ve li lascio qui sopra nelle schede. E quindi la Lazio è la prima squadra sorteggiata. Va nel gruppo A e adesso vediamo chi va nel gruppo B. L'Inter! E quindi prima novità rispetto alla fase d'andata, perché Inter e Lazio erano insieme nel girone, nel gruppo A sempre, con la Juventus, che poi è passata da prima. La Lazio ha battuto l'Inter, che a sua volta ha battuto la Juve. I giococciolesti hanno perso con la Juve nella primissima partita. Quindi abbiamo già le prime da una parte e dall'altra. Lazio nel gruppo A, Inter nel gruppo B. Adesso vediamo da chi verranno raggiunti. Terza squadra, vediamo qual è. La Roma! La Roma che va nel gruppo A e quindi torna il derby della capitale, che non vediamo nella YouTuber League, dal marzo del 2023. Finì 3-1 per la Roma, anche se storicamente la Lazio, lo sapete, ha vinto molte più partite, molti più derby contro i giallorossi. L'ultimo precedente in Summer Cup 1-1, gol di Cruz e Lorenzo Roma. Però torna il derby, e questa è una notizia importante. Quindi Lazio e Roma nel gruppo A. Facciamo così, andiamo a rivivere le emozioni dell'ultimo precedente nella YouTuber League tra Lazio e Roma. Ancora, attenzione, perde il pallone. Lo conquista Mattei, pallonetto! Mamma mia, che gol! Matteiaio, calcio ad uscire, colpo di testa, la palla che rimane lì! E c'è il pareggio della Lazio! Il boss sul punto ribattuta. Pallone forte, sul primo palo! E poi arriva il 2-1! Solo, e allora in verticale per Rapolla. Mancino! Mamma mia, che gol! La Roma ha raggiunto la Lazio nel gruppo A. Adesso vediamo chi raggiunge l'Inter nel gruppo B. Quarta squadra da sorteggiare. È rotto, ma va bene lo stesso. È il Napoli! Il Napoli, che oltre ad essere campione d'Italia in Serie A in carica, è una squadra che ha messo in difficoltà storicamente la Roma e sono molto contento di non prenderla, almeno in questa fase di ritorno. Napoli che, fatemi fare un calcolo rapido, non ha mai affrontato l'Inter nella YouTuber League, ma nella Summer Cup. L'ultima volta finì 7-3 per i Nerazzurri. Si sono affrontate tanto in realtà in Summer Cup Inter e Napoli. Sarà interessantissimo vederle nella YouTuber League per la prima volta. I valori a 8 rispetto che a 5 cambiano e non poco. Vedremo che succederà. E adesso però bisogna finire di comporli i gironi. Andiamo a mettere il Napoli qua dentro. Abbiamo più della metà. Lazio-Roma da una parte, Inter e Napoli dall'altra. Mancano le finaliste, manca a farla apposta della finale d'andata. Mancano Juventus e Milan. E ovviamente ci sono delle differenze nell'eventuale sorteggio. Perché da una parte abbiamo la Juve, che potrebbe incrociare per la prima volta il proprio cammino con la Roma nella YouTuber League, ma ritrovare la Lazio se dovesse finire nel gruppo A. Lo sapete, Juve-Lazio è una grande classica di questa YouTuber League. Se dovesse invece finire nell'altro girone, affronterebbe nuovamente l'Inter, ma per la prima volta il Napoli da quella sfida di Scampia, parlando sempre di YouTuber League. Per il Milan invece è discorso diverso, perché i rossoneri hanno affrontato la Roma nella prima gara stagionale giocata e persa prima di vincere a Napoli, ma non hanno mai affrontato la Lazio nella YouTuber League. Dall'altra parte tornerebbe il derby di Milano e tornerebbe la sfida tra Ragnar e il Napoli. Vediamo quale sarà la prima squadra sorteggiata. E quindi quella che finirà nel gruppo A di Lazio e Roma. Signori, con Lazio e Roma finisce la Juventus. La Juventus che gioca questa finale contro il Milan, che è vice campione della YouTuber League. Ritrova la Lazio, ma soprattutto per la prima volta nella sua storia all'interno della YouTuber League si giocherà una partita contro la Roma. E quindi, per esclusione, qui c'è il Milan. E ve lo mostro, se no non ci credete. Eccoli qui, i rossoneri. Milan che ritrova l'Inter, quindi nuovamente il derby, ma ritrova anche il Napoli dopo aver vinto 3-0 a Napoli. Che bei gironi, li vedete in grafica. E rispetto al passato voglio anche regalarvi il calendario. Ovviamente da disegnare, perché lo sapete, c'è la prima partita e ve la dico quale sarà. Poi chi perde la prima rigioca subito contro quella che non ha giocato e poi ovviamente c'è l'ultimo incrocio. Quindi non vi posso dare tutto il calendario, ma possiamo cominciare a studiarcelo. E quindi, visto che i gironi ce lo permettono, diamo anche un peso ulteriore alla fase d'andata. La prima classificata nel girone d'andata dovrà giocare entrambe le partite in casa. La seconda, una in casa e una in trasferta. La terza giocherà due volte in trasferta, quindi mai in casa. E non è per forza una cosa negativa in realtà, perché se andiamo a prendere i risultati in casa hanno perso tutte nella fase d'andata. In trasferta hanno vinto tutte. A questo punto vi do le prime due partite, ma sarete voi nei commenti a suggerirci da quale partire. Non è detto che si parta dal girone A. La prima partita del gruppo A sarà Juventus-Roma, con i bianconeri che giocano in casa e i giallorossi in trasferta, naturalmente. La prima partita del girone B sarà il derby di Milano. Milan-Inter, con il Milan chiaramente in casa, perché prima nel girone, l'Inter che parte in trasferta. Quale partita vi piacerebbe vedere come primo incrocio post-finale d'andata? Fatecelo sapere nei commenti. Per il momento i gironi li vedete. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Ci vediamo come sempre in campo. Ciao! 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 Grazie per la visione!